La maggioranza ieri in Consiglio Comunale ha approvato la mozione della forzista Maria Luisa Ianni per intitolare una via, una piazza e l'aeroporto che comunque già è titolata Giuliana Tamburro, vittima del sisma, Silvio Berlusconi, scomparso di recente, che dopo il sisma, allora la Presidente del Consiglio, ha portato avanti un lavoro ritenuto dai più straordinario per la realizzazione soprattutto dei progetti case che hanno dato un tetto a tantissimi sfollati. Per molti non va bene perché Berlusconi è stato comunque una figura controversa, hanno spiegato alcuni consiglieri di opposizioni, ma sentendo la gente, tutti sono contenti. No, io non ho abbiato da quello perché sono di qui, ma più a Roma, comunque ho seguito la sua storia, è stato un grande uomo, un benefattore, al contrario di tutto quello che si voglia dire, male di lui, perché altri non hanno fatto quello che hanno fatto lui. Non è un'idea malvagia indestare qualcosa a Berlusconi, una piazza, una via. Lei ha detto subito favorevole. Certo, quello che ci ha fatto non l'ho capito. E certo, ha messo dentro, quante persone ha messo dentro? 15.000 persone ha messo dentro. Quindi va bene ricordarlo? Perfettamente sì, per me sì. Io lo voglio, voglio intitolare la piazza, qualsiasi piazza, piazza Tomo, piazza Palazzo. Per l'impegno dopo il terremoto che ha avuto? Per l'impegno e per il pensiero che ha avuto, guardate Amatrice e poi ci rendiamo conto. Se non ci fosse Berlusconi, noi altri stiamo come Amatrice.